Il tabellino dei marcatori recente di Cristiano Ronaldo recita che nelle ultime 5 gare in Serie A Ronaldo ha segnato 8 redi e fatto un assist. E questo video qui ovviamente arriva in onore di tutte quelle persone juventine e non che durante il periodo di appannamento di Ronaldo, ma appannamento parziale perché alla Juventus non segnava ma in nazionale segnava e come, si sono divertiti a criticare la squadra dicendo che la società non era stata abbastanza intelligente da prendere Ronaldo in un momento giusto, si sono divertiti a criticare il portoghese dicendo che Cristiano Ronaldo era un peso per la Juventus, che era un giocatore assolutamente inutile, pagato 30 milioni semplicemente per fare cose inutili e skill e situazioni veramente imbarazzanti e relativo al fatto che vi avessi detto già tanto tempo fa che Cristiano Ronaldo aveva un problema solo. Il problema di Cristiano Ronaldo era la posizione in campo. Quando voi andate a vedere le hitmap di Cristiano Ronaldo nelle prime partite stagionali, quelle in cui diciamo da ottobre a novembre non riusciva ad incidere, voi guardate e vedete che Cristiano Ronaldo gestisse la palla e giocasse molto lontano dalla porta. Sto parlando anche di un baricentro lontano da 35-40-45 metri. Molte volte che Cristiano Ronaldo si è abbassato sulla linea di Matuidi per andarsi a prendere palla direttamente ad Alexandro. Una situazione che avevamo già commentato su questo canale dicendo che sarebbe potuta essere dannosa per la Juventus a lungo termine. Da quando Cristiano Ronaldo si è avvicinato di più all'area di rigore, Cristiano Ronaldo sta segnando di più. Perché come vi avevo detto un giocatore come Ronaldo, abile come Ronaldo, bravo nelle velocità diciamo parziali come Ronaldo, deve essere comunque inserito all'interno di un contesto d'attacco giusto. Ora, io capisco perfettamente che le partite da cui ci si aspetta che Cristiano Ronaldo faccia triplette sono altre, perché comunque ci aspettiamo che Cristiano Ronaldo faccia triplette all'interno delle partite che contano, delle partite importanti. Però, e ribadisco però, cioè no, ripeto, non si può dire Cristiano Ronaldo è finito, Cristiano Ronaldo non vale più niente, la Juventus ha preso un bidone, perché se veramente pensate che la parola bidone possa essere associata ad uno come Ronaldo, mi dispiace, ma dovreste cambiare sport. Semplicemente questo. Trovo sia stato imbarazzante lo sciacallaggio della stampa e della stampa anti-Juventina anche nei confronti di un giocatore che non è mai stato messo in discussione da nessuna parte, siamo riusciti a metterlo in discussione in Italia. Cioè in Italia c'è stata gente che ha scritto che Ibrahimović per il Milan è stato un grande colpo che potrebbe consentire al Milan di ostacolare i piani alti, quindi Juventus, Inter, anche la Lazio a questo punto. Quando la Juventus ha Ronaldo in squadra, Ronaldo è un pensionato bullito del Real Madrid che non vale più niente. Allora, io penso una cosa, e la pensavo anche prima che Ronaldo facesse questa serie di gol in campionato, che tra l'altro sono stati molto importanti ai fini dei punti. Penso che uno come Cristiano Ronaldo potrebbe anche subire dei periodi in cui non riesce ad esprimersi al 100%, ma la maggior parte delle volte, più che una situazione relativa a un suo problema, è una situazione relativa alla tatticità. Cristiano Ronaldo giocava troppo lontano dalla porta. Ancora oggi, in alcune fasi, va lontano dalla porta. Nel primo tempo tra Juventus e Cagliari, Cristiano Ronaldo è stato costantemente lontano dalla porta. Il risultato è stato un tiro solo sul calcio piazzato, sul colpo di testa, perché era troppo impegnato a provare a sviluppare il gioco. Sarri si è riaccorto, errore che ha fatto tante volte. Nel secondo tempo Cristiano Ronaldo è stato messo proprio da centravanti. Quasi da centravanti. Si è abbassato all'ottantesimo Cristiano Ronaldo, quando c'è stato il gol di Higuain. Quando si è abbassato e ha dato palla in profondità a Higuain, l'ha già abbassato, ma Cristiano Ronaldo per gran parte del primo tempo ha giocato praticamente da attaccante, che è il ruolo che dovrebbe fare nel 4-3-1-2. Allora, siccome abbiamo visto che questo ragazzo rende bene davanti, adesso tutte quelle persone che parlavano di Ronaldo e facevano sermoni contro Ronaldo dicendo che Ronaldo era un spreco di soldi, di energie, di risorse, hanno capito che probabilmente era solo un problema di posizione, perché io non ci posso credere che siamo passati da la Juve ha preso il giocatore più forte del mondo, che ci ha eliminato dalla Champions praticamente da solo. La Juve ha preso un bidone nel giro di un anno e mezzo. Trovo che sia veramente di una bassezza a livello intellettuale impressionante. Molte persone credono che il calciomercato funzioni come funzionavano 40 anni fa e qui andavi, prendevi un giocatore a 10 milioni e riscoprivi il campione. Non è più così ragazzi. Non vale neanche più il discorso, prendi un buon giocatore e basta. Oggi il giocatore, la persona che prendi squadra, Ronaldo in primis, è un giocatore che non ti fa crescere solo in campo, ti fa crescere anche fuori. Se la Juventus ha avuto determinati impatti sul mercato, lo deve anche all'operazione Ronaldo, soprattutto agli introiti dell'operazione Ronaldo, che comunque non è un pensionato che dice che ce lo dobbiamo tenere per forza perché questo è famoso. A me sembra che Ronaldo stia facendo più che bene. Se schierava nella giusta posizione può fare bene. Fatemi sapere.